Cercavo un locale particolare, innovativo e che avesse un qualche cosa di diverso, un qualcosa di nuovo da proporre ai miei ragazzi, ai miei atleti. Mi ha colpito tantissimo la location dove faremo la cena e tutto il contesto, perché anche tutto l'hotel è ricercato e ha delle zone molto particolari che sicuramente colpiranno ognuno dei nostri ragazzi. Tutto lo staff dell'hotel Admiral mi ha aiutato nell'organizzazione e nella messa a punto di tutti i minimi particolari, proprio quello che noi cercavamo. Noi cercavamo soprattutto l'originalità, tante attenzioni da parte dei gestori di Carmela e di Daniele e anche dei loro collaboratori. Riescono a capire subito quello che tu vuoi e te lo realizzano subito. Questo per me è molto importante. Quello che loro hanno sviluppato per noi è stato fantastico. Sono veramente molto molto bravi. Secondo me questo fa veramente la differenza. Al di là anche del locale che è stato tutto curato nei dettagli ed è veramente una cosa unica che c'è qua. Non c'era prima e adesso invece c'è. Grazie a tutti.